Ultime cose. L'ultima immagine che avrò di te sarà il tuo corpo consunto dal tempo, la tua mano ossuta nella mia, la penombra e l'odore di chiuso della tua stanza. Le ultime parole che avrò da te saranno vai, vai che è tardi e perdi il treno, il tuo volto affondato nel cuscino, il respiro affannato di chi non trova il sonno. Le ultime parole che dirò a te saranno no nonna, dormo qui stanotte, ma tu no, non salire su quel treno senza avermi raccontato ancora. di quella volta che.